Un festival di grandissima qualità e per cui per la regione toscana è veramente una grande soddisfazione poter sostenere un festival con queste caratteristiche, perché è veramente un mix, un cortona mix festival da ogni punto di vista, un mix culturale perché vengono approcciate tutte le definizioni della cultura, la musica, lo spettacolo, il teatro, la danza, la letteratura, il cinema, la musica sotto ogni punto di vista, dalla musica classica alla musica rock, quindi veramente esiste una copertura di tutte le declinazioni della cultura. In più è un mix anche di geografie, perché comunque dentro Cortona si incontrano protagonisti del mondo della cultura italiani, francesi, tedeschi, statunitensi, israeliani, inglesi, insomma quindi anche questo è un fattore che rende Cortona al centro di un incontro di culture e di nazioni e in più un mix da un punto di vista proprio della trasversalità del pubblico e della partecipazione, perché vengono coinvolti i bambini, ci sono tantissimi tipi di generi anche musicali, del teatro, della danza, che possono coinvolgere persone di ogni età e un mix di combinazione fra Cortona, tutta la Toscana, tutta l'Italia e tutto il mondo. Quindi è davvero un festival con delle caratteristiche straordinarie, veramente questa seconda edizione si dimostra essere aumentata da un punto di vista qualitativo, come spessore culturale e quindi aumentata proprio in termini di qualità, veramente in centipede.